Sì, 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 vai, vai, tranquilla. Sì, 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 vai, tranquilla. Sì, sì, vai, tranquilla. Sì, sì, vai, tranquilla. Sì, vai, tranquilla. Sì, vai, tranquilla. Sì, vai, tranquilla. Sì, vai. Bye, bye. Sì, vai, tranquilla. Bye. Sì, vai, tranquilla. Bye. 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 Grazie. 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 Al presto. Perché se no io gli faccio mettere due elicoidi dal binetto. Però se trovo una pinza, metto anche una pinza usata. Delle tre a niente. Sì, sai, sono quei classi. Quello prima della Brembo. Perché si è spaccato. Mezz'ora, mi dice, mezz'ora che ci stiamo. Adesso è adesso. No, ma c'è una macchina. Però, perché le frecce stanno bene. Sì. Sai. Sai. Non dalle tre a un po' di la una mia mia cittadina. Non dalle tre a un po' di la città. Vado bene. Mi piace. Mi sono in una città. Vi l'abbiamo in una città. Mi sono in una città. Vado bene. Vado bene. Vado bene. Vi sono in una città. Si tratta di un po' di la città. Tu pensi che è una città. Lo rende sì stupendo un po' di la città. Grazie. 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 Grazie.